Salve a tutti, in questo breve video vi spiegherò dove sta andando l'azienda Duolife, cosa accadrà nei prossimi 12 mesi, ma cosa ancora più importante vi farò capire l'essenza di questo fantastico progetto. Non a caso in questa slide c'è scritto il tuo futuro con Duolife. Ma prima di iniziare voglio presentarmi, il mio nome è Simone Gelsomini, vengo da oltre 12 anni di esperienza nel settore, nel business di rete e da oggi mi occupo di soft marketing, un modello innovativo che scoprirete nelle prossime slide. Perché Duolife esiste? Ovviamente per migliorare lo standard e lo stile di vita di ogni individuo. Ma cosa più importante, l'azienda ha studiato un proprio sistema che porterà e già sta portando a ogni individuo un miglioramento a 360 gradi del proprio stile di vita, ma cosa ancora più importante anche della propria crescita personale e la salute, che è uno degli aspetti più importanti per ognuno di noi. E proprio perché ogni giorno sia unico, l'azienda Duolife non ha l'obiettivo di diventare l'azienda numero uno al mondo, ma bensì diventare l'azienda numero uno per il mondo. Perché vi dico questo? Perché l'azienda Duolife ha un proprio stile sviluppando il proprio settore del soft marketing, quindi non parliamo di multilevel marketing o network marketing, assolutamente no. Il soft marketing ha un approccio totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto negli anni passati. Lo stile del soft marketing è quello di lavorare sulla persona e non sulla persona. Non vedrete qui diciamo l'azienda spingere solo ed esclusivamente sui fatturati, creare dei pacchetti che possano causare dei problemi alle persone, assolutamente no. L'azienda Duolife è un'azienda che è molto attenta all'individuo, alla persona e quindi l'obiettivo è quello di migliorare a 360 gradi le aree che ognuno di noi vuole migliorare nella propria vita, tra cui anche quella ovviamente finanziaria. Per quanto riguarda la salute Duolife credo che abbia i prodotti più performanti in Europa che rispettano a 360 gradi la salute di ogni individuo. Beh ti dico questo perché negli anni passati ho avuto diciamo a che fare con tantissime aziende con sicuramente dei prodotti di altissima qualità per la salute, ma posso dirvi che magari nell'analizzare in profondità c'era sempre una virgola che non andava. Benissimo, in Duolife questa virgola viene cancellata perché l'azienda, proprio perché mette l'uomo al centro dell'attenzione, ha messo, scusatemi il gioco di parole, la massima attenzione sulla creazione dei propri prodotti e vi sfido a far vedere questi fantastici prodotti a qualsiasi medico, a qualsiasi professionista dei rimedi naturali e posso assicurarvi che vi diranno che questa azienda ha messo la massima attenzione sulla salute di ogni individuo. Duolife, massima qualità come già vi ho detto, natura, innovazione, supporto. Perché supporto? Perché abbiamo già in Italia ma in tutta Europa un comitato scientifico che ci supporta giorno dopo giorno per capire al meglio questa linea di integrazione. L'educazione grazie al comitato scientifico, la comunità, quindi grazie a degli eventi che noi stiamo facendo in tutta Italia c'è una grandissima conoscenza della linea di integrazione ma non spiegata magari da liberi professionisti ma da medici e da professionisti che sanno cosa stanno dicendo e sanno come magari poter consigliare un determinato integratore. Pensate all'esclusività dei prodotti Duolife, l'etichetta pulita, la prima supplementazione azienda Europa, etichette in 15 lingue, gluten free su tutti i prodotti, 200 ingredienti, pensate oltre 150 prove cliniche su materie prime, certificati importantissimi come l'ISO 22000, l'ISO 9002, quindi abbiamo delle certificazioni che attestano la grande qualità dei prodotti, un proprio consiglio scientifico. Parliamo di un'azienda Duolife che ha il massimo controllo sulla propria produzione perché è un'azienda che produce i propri prodotti. Pensate che nel mondo del multi level marketing o network marketing solo il 3% delle aziende producono i propri prodotti e questo per noi che collaboriamo con Duolife è un vero e proprio vanto. Abbiamo tre linee, specifiche per quanto riguarda l'integrazione, Duolife liquid formula, quindi una linea liquida, Duolife medical formula, una linea di incapsulati, Duolife clinical formula, eccezionale questo è un prodotto brevettato da Duolife che è ottimale per migliorare la vista quindi di ogni individuo. Come vedete questa è un po' tutta la linea dei prodotti Duolife, io solo con questa immagine mi sponsorizzerei perché come vedete un'immagine pazzesca, Duolife oltre ad aver puntato sulla qualità a un packaging ragazzi che fa invidia a tantissime aziende quindi un'azienda che si presenta eccezionalmente a 360 gradi. Ora andiamo a vedere i prodotti Duolife in futuro, cioè i piani futuri dell'azienda Duolife. Qualcosa di eccezionale, come vedete nell'ottobre 2019 Duolife ha comprato un impianto di produzione. Perché ha acquistato un impianto di produzione? Perché l'azienda vuole essere sicura a 360 gradi che quando fa uscire un prodotto è un prodotto che rispetta a 360 gradi diciamo la salute di ogni individuo. Non è un'azienda che acquista conto terzi ad occhi chiusi, è un'azienda che è attenta e quando fa uscire un prodotto quel prodotto deve essere perfetto per la salute di ogni individuo. E proprio per questo motivo l'azienda ha acquistato un'azienda che produce ed ha un'esperienza pensate di oltre 20 anni a un laboratorio, di un laboratorio. Quindi ha acquistato un'azienda che ha 20 anni di esperienza nella creazione di cosmetici. E la massima attenzione e fusione che avrà Duolife, l'obiettivo che ha avuto l'azienda nell'acquistare diciamo questo laboratorio, è l'attenzione che ci sarà nella creazione di cosmetici. Quindi l'azienda Duolife farà uscire delle linee cosmetiche. Ma non delle linee cosmetiche buttate lì. Ma anche qui l'azienda ha studiato una strategia importantissima. Perché vi ricordate gli imbottigliati che noi abbiamo? Duolife giorno e notte, è un mix di antiossidanti eccezionale per la salute di ogni individuo. Vitamina C, clorofilla, aloe, collagene, che è un nutraceutico che sta ottenendo dei successi pazzeschi in Italia e in altri paesi europei. Keratin Air Complex, un integratore interno per la bellezza e la forza dei nostri capelli. E quindi cosa ha fatto l'azienda? Dietro ogni integratore liquido costruirà nuovi brand, nuovi prodotti. E quindi nelle prossime settimane uscirà la linea Air Keratin Complex. Quindi come vedete noi già abbiamo un integratore liquido interno ottimo per la cura dei capelli e usciranno anche insieme a questo integratore uscirà uno shampoo alla keratina, quindi a base di keratina, e un conditioner, quindi un balsamo, a base di keratina. Quindi si creerà il triangolo perfetto per la cura dei capelli. E pensate che questo prodotto è stato, diciamo, analizzato, è stato testato su tantissime persone e già in pochissime settimane stiamo ricevendo dei feedback pazzeschi. Un'altra bomba che arriverà sul mercato italiano, un prodotto che riduce le ruche ed è un ottimo nutriente per la pelle idratante. Un prodotto eccezionale, un integratore comunque interno, come vedete un'innovazione che unisce le caratteristiche del nutraceutico e dell'epigenetica. Materie prime che possiedono analisi cliniche, due capsule per il giorno e due capsule per la notte. Quindi saranno due, diciamo, un integratore dove verranno, diciamo, assunte due capsule per il giorno, due capsule della notte, dà l'obiettivo e dà, diciamo, lo scopo di migliorare la nostra pelle, quindi la nostra bellezza. Poi uscirà in concomitanza, oltre all'integratore interno, uscirà anche una crema per il giorno e una crema per la notte. Due cosmetici eccezionali che faranno parlare l'Italia intera e che hanno la funzione di renderci più belli a 360 gradi. Come vedete già ci sono comunque dei test, una, diciamo, diminuzione della visibilità delle ruche, quindi una riduzione importante delle ruche. Sarà un prodotto, diciamo, apriporto, un prodotto civetta che darà quel classico effetto wow per quanto riguarda comunque la cura della pelle. Marche sotto l'ombrello. Cosa significa? Come già vi ho detto, l'azienda intelligentemente creerà dietro ogni suo integratore una linea cosmetica. Quindi noi, come sapete, abbiamo il collagene che è un prodotto, un integratore eccezionale che ci sta permettendo di raggiungere degli ottimi risultati di crescita. Quindi, legato al collagene, l'azienda creerà dei prodotti intorno al collagene. Poi ci saranno dei prodotti che verranno sviluppati intorno alla clorofilla, intorno alla vitamina C, quindi dei prodotti a base di vitamina C, a base di clorofilla, a base di aloe, per esempio il dentifricio, a base di aloe. Quindi usciranno prodotti di largo consumo, ma non buttati lì, con un seguito ad ogni integratore. Quindi, in base comunque al collagene, usciranno dei prodotti di largo consumo intorno al collagene. Per quanto riguarda l'aloe, stessa identica cosa, vitamina C, clorofilla. Quindi questo ci permetterà di fare dei numeri pazzeschi. Nessuna azienda può permettersi di avere dietro ogni prodotto, quindi dietro ogni caratteristica del prodotto, dei prodotti abbinati. E questo ci permetterà di avere una conversione clienti pazzesca, perché da qui nascerà una vera e propria fidelizzazione a 360 gradi. Usciranno anche dei box vitaminici di origine organica. Ci sono aziende che hanno 50 anni di esperienza, che hanno costruito il proprio business proprio sui multivitaminici. Quindi usciremo anche noi a brevissimo con dei box multivitaminici. L'espansione del marchio Hi5 in integratori. Quindi vi ricordo, la linea Hi5 in questo momento è composta dalle barrette eccezionali Duolife, eccoci qui, dalle barrette e dai crunchy, quindi dai crunchy B-crunchy, che sono un ottimo comunque rimedio per la nostra colazione. Ok? Quindi B-crunchy e barrette. Oltre a questo, nella linea Hi5, si uniranno dei prodotti eccezionali per gli sportivi. Anche qui faremo dei numeri pazzeschi. Quindi ci stiamo preparando a fare la differenza. Ma non è finita qui. Pensavate che è finita qui. Perché oggi sono in Duolife? Perché ho la piena consapevolezza che faremo dei numeri esorbitanti, dei numeri pazzeschi. Perché Duolife è pronta per fare la differenza. Come vedete, nei prossimi mesi usciranno anche i travel pack. Cosa sono? Sono una linea di bustine in monodose, in gel, ok? Di ogni prodotto che oggi abbiamo a disposizione. Quindi uscirà, diciamo, la bustina in gel della clorofilla, dell'aloe, del collagene, della cheratina, della vitamina C, del giorno e notte. A cosa serviranno? Beh, serviranno per creare tanti nuovi clienti e per far conoscere più velocemente il marchio Duolife. Qualcosa di Pazzesco? Questo ci permetterà di far conoscere molto, ma molto più rapidamente i prodotti, i fantastici prodotti Duolife. Mi sono scordato in questa slide, ho saltato un aspetto molto importante su cui mi volevo soffermare. Vediamo se ci aiutano le slide. Ok. Uscirà anche, pensate, un piccolo test, un piccolo test pre, quindi che servirà per tutte le persone che vorranno integrare Duolife, che permetterà immediatamente di capire alla persona quali sono le proprie carenze e quale integrazione la persona deve assumere. Ok? Questa sarà un'altra bomba che esploderà sul mercato italiano. Preparatevi perché ne resterà, come dico sempre, solo una. Duolife ha delle caratteristiche pazzesche, unita a un piano marketing pazzesco. Duolife, l'uomo al centro dell'attenzione. Già nelle primissime qualifiche l'azienda vi permette di avere una macchina aziendale, vi permette di avere delle provisioni da sogno. L'azienda ha costituito dei prodotti eccezionali con un rapporto qualità e prezzo unico. Beh, ragazzi, in Duolife abbiamo tutto. E proprio per questo la nostra chiave per il successo è la coerenza, la concentrazione, perché in questa fase ci stiamo concentrando per esplodere nel mercato italiano, e la direzione. Ci svilupperemo in moltissimi mercati europei. Duolife diventerà una delle aziende più performanti nel mercato europeo. Ovviamente la chiave per il successo dell'azienda, ripeto, non è un'azienda che vuole essere la numero uno, diciamo, in termini di farturati, spremendo i propri distributori. Assolutamente no. La chiave dell'azienda è la coerenza, l'attaccamento ai propri distributori. La massima concentrazione ci permetterà e la direzione ci permetteranno di raggiungere grandissimi risultati. E pensate che senza avere tutte le cose che vi ho annunciato, nel 2019 sono usciti oltre 52 direttori, quindi persone che hanno raggiunto dei guadagni altissimi annuali. Nel 2025 si prevedono oltre 1000 direttori, perché dalle novità che vi ho appena annunciato ci sarà un'esplosione unica. Duolife si sta preparando a fare la differenza. Non a caso sta migliorando anche la vita delle persone più povere con HealthFura, che è un'associazione che aiuta tantissimi bambini, quindi sotto questo aspetto anche Duolife è unica. Quindi se ancora non hai capito dove devi andare, benissimo. Ora è questa la tua direzione. Duolife ha costruito un futuro rosio per te, quindi chiedi immediatamente informazione alla persona che ti ha inviato questo video perché Duolife nei prossimi anni scriverà tantissime storie di successo. Grazie a tutti e sicuramente ci vedremo nelle prossime sessioni webinar. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti